Benvenuto su Scelta del prodotto. In questo video daremo un'occhiata a miglior umidificatore per ambienti. Ho stilato questa lista basandomi sulla mia ricerca e opinione personale e ho cercato di catalogarli in base al loro prezzo, qualità, durata e altro. Se vuoi conoscere il prezzo e saperne di più su questi prodotti, puoi visitare i link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Cominciando la nostra lista con il numero 5, abbiamo Levote. Il Levote Ultrasonic Room Umidifier 6L Top Fill for Kids è un umidificatore top of the line progettato con le esigenze della tua famiglia in mente. Lo smart control con app Alexa rende la connessione più veloce e comoda, mentre la grande capacità consente fino a 60 ore di utilizzo prima di aver bisogno di una ricarica. Con la modalità Sleep con un solo pulsante, questo umidificatore è facile da usare e ultra silenzioso. Dopo il supporto Levote lì per aiutarti a iniziare, comprese le istruzioni. Ti consigliamo di usare il Levote Ultrasonic Room Umidifier 6L Top Fill for Kids. In qualsiasi stanza si voglia sentire i benefici dell'umidità aggiunta, compresa la cucina, il soggiorno, la camera da letto, la cameretta o l'ufficio. Capacità di 6L per un massimo di 60 ore di utilizzo prima della ricarica. Numero 4. Probrezze simbolo di marchio registrato. Questo umidificatore a ultrasuoni Probrezze rilascia in modo sicuro la nebbia a ultrasuoni in entrambe le impostazioni freddo e caldo. Con un serbatoio d'acqua più grande da 5,6 litri, questo umidificatore può funzionare per periodi di tempo più lunghi prima di dover essere riempito. Il display a LED incorporato e la modalità automatica controllano accuratamente i livelli di umidità ambientale e regolano l'uscita della nebbia di conseguenza per mantenere il livello di umidità desiderato. Inoltre, il filtro a resina a scambio ionico aiuta a rimuovere le impurità dall'acqua, mentre il soio dell'olio essenziale permette di aggiungere i vostri oli essenziali preferiti per creare una nebbia fragrante che riempie la stanza con l'odore di vostra scelta. L'umidificatore Probrezze simbolo di marchio registrato è ideale per l'uso in piccoli spazi come i cubicoli dell'ufficio. 3 gradi posto c'è l'Evot umidificatore. Il Levot Ultrasonic Room Umidifier 6 LLV600HH fornisce sia nebbia fredda che calda per alleviare la congestione, permettendo un uso continuo di 20-36 ore. Il sensore di umidità incorporato nell'umidificatore regola automaticamente l'uscita della nebbia per mantenere il livello di umidità desiderato. La tecnologia del vapore ultrasonico produce una nebbia fine, e l'umidificatore è abbastanza silenzioso per l'uso in qualsiasi stanza. Puoi anche aggiungere i tuoi oli essenziali preferiti alla porta per l'aromaterapia per un maggiore comfort. La porta per l'aromaterapia dell'umidificatore funziona aggiungendo i vostri oli essenziali preferiti al serbatoio dell'acqua. Anche se questa può sembrare una nuova idea, ma ci sono già molte marche di diffusori di oli essenziali disponibili nei mercati asiatici. 2. Diffusore di oli Confermare che si sta acquistando da G-Rick del negozio. Altrimenti otterrete prodotti contraffatti. Questo diffusore umidificatore ad ultrasuoni utilizza la vibrazione per trasformare l'acqua in nebbia, ed è abbastanza piccolo che potresti anche non notarlo. Viene anche fornito con un telecomando, così puoi stare a letto o sul divano e controllare gli aromi del diffusore quando ti senti stanco. L'umidificatore si spegna automaticamente senza acqua e ha una luce led morbida che può essere regolata sul tuo colore preferito. Ha anche un elegante aspetto di grano di legno. Questa unità è progettata per aree fino a 500 piedi quadrati. Ottimo per l'uso in camera da letto, ufficio, spa, studio, yoga e altro. Fine, il numero 1 della nostra lista, Amazon Basics. Amazon Basics Ultrasonic Cool Mist Umidifier with Night Light and Aroma Diffuser fornisce una nebbia fresca e rilassante per la stanza del tuo bambino. L'umidificatore a ultrasuoni utilizza una vibrazione ad alta frequenza per trasformare l'acqua in una sottile nebbia fresca che si disperde nell'aria. È dotato di una grande capacità del serbatoio di 1,5 litri e di una funzione di spegnimento automatico che arresta automaticamente l'unità quando l'acqua si esaurisce o se si ribalta. Questo umidificatore Amazon Basics include anche un vassoio diffusore di aromi che consente di aggiungere oli essenziali per creare un piacevole profumo nella stanza. Recensione primaria di Amazon questa recensione dell'umidificatore a ultrasuoni di Amazon parla di un problema che ho trovato con tutti loro, ma non ti dice come risolverlo. Sevre, troverai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se l'hai trovato utile, allora metti mi piace e condividilo. Inoltre non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per vedere altri fantastici video come questo.